Una cosa molto importante, ho scordato di dirti. Quale? Mai incrociare i flussi. Perché? Sarebbe male. Faccio sempre confusione tra il bene e il male. Che intendi per male? Immagina che la vita come tu la conosci si fermi istantaneamente e ogni molecola del tuo corpo esploda alla velocità della luce. Inversione protonica totale. E quello è male. Ok, è un importante raguaglio. Grazie, Ivo.